buongiorno buongiorno oggi è giovedì 17 maggio la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione ancora una volta sarà una giornata all'insegna della variabilità sia in provincia di trento sia in provincia di bolzano non si escludono deboli precipitazioni sull'intero territorio regionale in regia abbiamo massimo moro andiamo a vedere quello che accade alle prime luci dell'alba intorno alle 6.30 di questa mattina a riva di tures vedete la neve caduta negli ultimi giorni complice il brusco abbassamento delle temperature in quota fa vedere i suoi segni sulle vette più alte andiamo a vedere la grafica anche innanzitutto in provincia di bolzano come detto alternanza di sole e nuvole temperatura in linea con le ultime 48 ore con gli ultimi giorni vedete la variabilità variabilità protagonista anche nella vicina provincia di trento anche qui alternanza di sole e nuvole temperature come nei giorni scorsi 21 gradi nel capoluogo identica situazione a riva del garda andiamo allora a vedere con l'aiuto proprio della regia quali sono le aperture dei quotidiani livello locale e nazionale l'alto adige per il tram 40 milioni da roma vertice al ministero caramaschi strappa il primo ok il corriere dell'alto adige il tema è quello della toponomastica blitz volkspartei l'espopè l'espopè vota con sui troller freiheit bizzo dice la stella alpina rischia di sbandare la cronaca cura dell'adige mendola bruciate sei baite una cronaca che interessa da vicino anche la provincia di bolzano il piromane torna in azione sono 30 gli incendi in 8 anni distrutte le casette abusive costruite su suolo pubblico l'allarme l'allarme alle 23 e 30 la cronaca cura del trentino passi spunta l'ipotesi pedaggio gilmozzi l'assessore dice no alla chiusura sci si a scelte graduali tutto questo ovviamente per l'ambiente torniamo in provincia di bolzano con la cronaca linguatesca cura del quotidiano dormiten purtroppo l'apertura è dedicata a una nuova tragedia in montagna in alta val venosta nella zona del monte aslago a poca distanza da malles a perdere la vita un uomo di 77 anni precipitato lungo un sentiero il settimanale ff lo troviamo in edicola ogni giovedì sappiamo la sfida ai vertici della camera di commercio tra il presidente uscente emile ebner e il suo contendente walter amort e l'elezione il 23 di questo mese il quotidiano tag est site un che il tema di apertura è quello della gestione del latte la produzione del latte in provincia di bolzano le varie alleanze cosa accade e cosa dice l'europa il corriere della sera salvini di maio ecco il patto discutere i trattati con l'unione europea aperture a no wax e no tav mattarella dice valuterò il testo definitivo il sole 24 ore no dei mercati ha il piano anti unione europea programma di governo quasi ultimatum ultimato si tratta sul nome del premier come sempre gli appuntamenti da non perdere in provincia di bolzano oggi al via la stagione estiva degli aperitivi lunghi alla brasserie della forse dal 19 al 20 festa della banda musicale di oris dal 25 al 27 di maggio due appuntamenti il primo la cavalcata di oswald von bolkenstein il secondo la festa per i 200 anni della banda musicale di burgusio dal 25 al 26 di maggio open air a lana è tutto come sempre io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33 grazie a tutti